Stasera è stato presentato a Belpasso presso la Biblioteca Comunale il gruppo consigliare Prima l'Italia che si presenterà alle prossime elezioni amministrative proprio col simbolo ai nostri microfoni, i vertici del partito. Oggi qui a Belpasso per sencina nascita di Prima l'Italia in Consiglio Comunale e tanti amici intorno a questo momento perché rappresenta il coronamento di un percorso con Gregorio, Damiano e Santi che hanno in questi anni rappresentato esperienze e salvaguardie del territorio ma soprattutto tutela di quella che è l'azione della buona politica qui nel Comune di Belpasso. Sono felice perché essere qui a Belpasso a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 2023 a formare il gruppo consigliare Prima l'Italia che verrà rappresentato poi alle elezioni amministrative è un piccolo passo in avanti per una comunità come quella di Belpasso che ha buoni amministratori ma soprattutto che ha tanta voglia di dimostrare che la politica può tornare tra la gente e per la gente. È un momento importante, è un momento soprattutto per la costituzione di un gruppo Prima l'Italia che presenta i tre consiglieri comunali, una nuova costituzione del gruppo. Sì, siamo sempre più presenti sul territorio, una realtà assolutamente in crescita. Non ci dimentichiamo sempre che si parte dalla Lega Salvini Premier, Prima l'Italia è figlia di Lega Salvini Premier sul territorio siciliano. Innanzitutto siamo felici di vedere nascere il gruppo Prima l'Italia qui a Belpasso che consideriamo uno dei comuni più importanti della provincia di Catania non solo come densità dei abitanti ma soprattutto anche perché è un comune importante sotto l'aspetto della produzione economica col suo polo industriale. Quindi per noi è un momento importante questo. È uno dei primi gruppi che costituziamo in provincia di Catania e questo gruppo nasce all'insegna della coerenza perché noi da sempre abbiamo fatto con i nostri rappresentanti insieme al Consiglio Comunale l'opposizione a quella che è l'attuale governo cittadino e su questa linea della coerenza politica andremo a proporre una candidatura alternativa a quella del gruppo uscente che pur cambiando candidato comunque rimarrà una candidatura all'insegna della stessa coalizione che ha guidato il Paese fino ad oggi. Quindi noi sotto questo punto di vista ci distingueremo e porteremo avanti un programma diverso con una discontinuità anche nelle persone che per noi questo è fondamentale. L'argomento principale è la presentazione del gruppo consigliare Lega Prima l'Italia che due consiglieri della posizione assieme a me stiamo ufficializzando questo di conseguenza ciò naturalmente per le prossime amministrative sarà presentata appunto la lista adeguata Stasera si sta presentando il gruppo consigliare un gruppo consigliare primaritare che rappresenta il naturale approdo del lavoro che hanno svolto tre consiglieri comunali il sottoscritto, il consigliere Guzzetta e il consigliere Caserta ormai da diciamo un anno Si presenta il gruppo consigliare sotto campagna elettorale perché poi le tempistiche sono state queste questo è stato l'anno delle elezioni abbiamo avuto l'Election Day il momento successivo all'Election Day con la formazione del governo nazionale del governo regionale oggi si presenta il gruppo consigliare chiaramente prodromico poi all'organizzazione di una lista elettorale per le ormai imminenti elezioni che si svolgeranno presumibilmente tra maggio e giugno quello che è l'obiettivo di questo gruppo consigliare di quello che poi sarà la lista è quello di stare sempre dalla parte dei cittadini dalla parte belpassesi di cercare di risolvere i micro e i macro problemi che questa comunità come tutte le altre ovviamente presenta ma anche di cogliere le grandi opportunità che questa comunità più delle altre certamente ha